E saluto a tutti i fratelli di Brottagamer998 e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo tornati con come al solito io parlo solo video di calcio Ormai ve lo dovete mettere in testa che ormai l'obiettivo è vi parlo solo di calcio a mercato O di calcio a mercato o delle mie reazioni alle partite Intanto ieri Roma a Benevento è finita 5 a 2 per la Roma Riga purtroppo non vi ho pubblicato la live reaction perché l'avevo pubblicata riga L'avevo pubblicata solo che per problemi di Youtube non l'ho potuta pubblicare più L'avevo registrata ma non l'avevo pubblicata più Intanto vi invito a iscrivervi al canale che dobbiamo arrivare ai 40 iscritti riga Fatelo Cioè se no non faccio più video sto scherzando riga L'arriviamo a questi 40 iscritti e poi lasciate like e attivate la campanellina Per non perdervi tutti i video Intanto riga vi voglio fare delle date Sanno ormai certi di voi mi vanno a seguire per il calcio eccetera Vi voglio mettere delle date I video ci saranno tipo Bruno fai video, Bruno fai video Cioè Brattachimer fai video, Bruno fai video Vabbè riga E Cioè Ci saranno delle date I video arriveranno il sabato o la domenica riga Perché? Perché c'è la serie A il sabato e la domenica Quindi arriverà Però 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 Il video Vi faccio uno spoiler Il prossimo video sarà gioidi Perché gioidi? Perché ci sarà Napoli Az No Napoli Az O Az Napoli Partita di Europa League Quindi La dovrò assolutamente vedere E Vi farò Cioè vi farò la mia reazione dopo la partita Perché le live reaction Non stanno andando tanto bene tramite i visual e tramite i like Quindi Però io le pubblico Ok raga Mamma mia Tanto sono Sono impressionato per il gol di Pedro riga Cioè No per il gol di Pedro Per il gol di Carles Perez riga La Roma Ieri ha giocato bene Anche il Benevento raga Però mamma mia che gol che ha fatto Carles Perez riga Io Se ero romanista già mi mettevo a piangere Già mi mettevo a piangere Cioè perché io Ho detto Io come l'ho visto Tanto Ho risultato un po' Poi ho detto Mamma mia che Il gol più bello per me riga Sì o no È stato il gol più bello del 2020-2021 Di questa serie A Dopo queste quattro giornate È stato veramente il gol più bello Perché si è smarcato riga Tutto il centrocampo Tutto il centrocampo della sinistra E poi Tutta la difesa E passiognato Cioè Solo su FIFA si fanno queste cose riga Solo su FIFA O su PS Su FIFA Cioè mamma mia Grandissimo Carles Perez Cose che non vedavamo Da parecchio tempo Vediamo solo un quasi Messi O un Bappé fare queste cose Ma nemmeno loro Nemmeno loro Fanno queste cose Fatte Carles Perez Vabbè intanto parliamo di Una questione Sia della classifica Sia di Roma Benevento Ieri la Roma Ha giocato bene raga Ha giocato molto bene Il Benevento si spinge Su fase Di No Sì Su Va sulle ali Raga Il Benevento Spinge sulle ali Quindi dobbiamo stare attenti Noi Noi ci mettiamo sempre La solita difesa Noi andiamo lì per giocare Perché La prossima farà Benevento Napoli Prima controlla E poi Benevento Napoli Partite da non sottovalutare Non è che Sì Ma avete vinto 4-1 con l'Atalanta Che c'entra raga Che c'entra Allora la Fiorentina Ha vinto 7-1 contro la Roma Perché poi ha vinto sempre 7-1 No cioè Probabile che pure Ci prendiamo una pausa Non ne possiamo mai sapere Tanto per lo scudetto Ne siamo quarti Però raga Se voglio pronosticare questo scudetto Raga per me è una bella classifica A parte il Sassuolo Che sta Che sta secondo Però per il resto È una bella classifica Perché il Sassuolo Non mi piace che sta secondo Cioè Per vedere Un po' di partite Che cazzo Voi non arrivate quasi mai In Champions Europa League Mamma mia Però per me guarda È una bella classifica A parte Noi siamo quarti Però a parte il Sassuolo Secondo Che Se lo Sassuolo Si deve proprio scansare Al secondo Terzo Quarto Quinto Anche vabbè Sesso lo può Prendere No Sassuolo si deve scansare Tra il primo Secondo Terzo Quarto Quinto Sesso e settimo Almeno ottavo Cioè almeno settimo Ottavo deve arrivare Cioè non deve arrivare Tra quelli sopra Però Raga per il compenso Milan Atalanta E Napoli Juve Poi Quinta E l'Inter Sessa Per me è una bella classifica A parte quel Sassuolo Per una bella classifica Raga vi dico di più Per me No per Per portare sfiga No per dire niente Ma io Lo vedo bene Il Milan quest'anno Raga Il Milan quest'anno O un piazzamento In Champions Europa O va a vincere Proprio lo scudetto Raga Scrivetevi sotto A parte quel gol Di Carlos Perez Anzi no Hashtag Mina Scudetto E poi vabbè Sì o no Mina Scudetto Per me raga sì Perché hanno Un gioco da paura Raga Cioè fanno paura Sulle fasce Cross In mezzo Raga Ho visto una bellissima partita Cioè Contro l'Inter Che l'Inter L'anno scorso Stava vincendo lo scudetto E mo Se volete quest'altro Vabbè Intanto Milano Il rosso nero Però Mamma mia Che partita Ha fatto il Milan Raga Ve l'ho detto Quella scorsa volta Ve lo dico pure ora Raga Mo me ne sono accorto Il Milan Può vincere lo scudetto Mo che c'è Milan Roma Voglio vedere Milan Roma Come va Raga infatti Vi dico Ve lo dico Farò la live reaction Di Milan Roma Raga Però questo video Deve raggiungere Almeno 8 like Perché noi Cioè Sui 3 like Non ci superiamo Però Facciamo Raga Io faccio video Che ci metto pure Qualche minuto Poi per caricare Eccetera Perché Che non è Non è facile Che Voi youtuber Eccetera Perché poi ti devi organizzare Quei video Ti devi organizzare Quelle live reaction Quindi raga Non è che facciamo Tante visual Al suo contento A parte Dobbiamo fare sia gli iscritti E sia i like Gli iscritti li stiamo facendo Raga Gli iscritti li stiamo facendo Ma dobbiamo fare anche i like Cioè Mi piace che gli iscritti li abbiamo fatti Perché stavo tipo a 31 Siamo arrivati a 37 In Due secondi Cioè In Due giorni Raga In un giorno Barra due giorni Siamo arrivati Abbiamo fatto tipo 7 8 iscritti Quindi Sono contento E vi ringrazio Però Dobbiamo fare anche Varecchi like Cioè Intanto quel video di Kaiekon Certo 30 visualizzazioni Cioè Assurdo Però raga Tutti sono stati contrari Su Che Kaiekon Ha tradito Però vabbè Raga Per me Il Milan Nel da scudetto Ma raga Live reaction Di Milan Roma La faccio Lo faccio e ve lo prometto Io quando faccio le cose Ve lo prometto Mi sa che c'è Milan Roma Sì E voglio vedere il Milan Che fa proprio contro la Roma Ha giocato Benissimo Contro l'Inter Ora Deve andare a giocare bene Con la Roma Questa è la cosa Ma Dobbiamo vedere Io guarda Io spero solo Che non ho vinciato Io raga Cioè Io Sono Io ho tipo La cosa che sono Se ero Io sono Napoletano e romano Cioè che Sono cresciuto Sono da 11 anni Qua raga Da quando avevo Tipo due mesi Vabbè Scendevo tipo A Torre del Greco Napoli Infatti Sapete che un po' L'accento napoletano Si sente E poi si sente Pure l'accento romano Che ho qua Da 11 anni Quindi Raga Non vi preoccupate Io spero solo Che non vincere la Juve E raga Bella Ci vediamo Alla live reaction Vi volevo solo Parlare un po' Di due cose E Vabbè Comunque i video Arriveranno Il venerdì Cioè giovedì Raga Se c'è l'Europa League I video Arriveranno giovedì Casomai Dopo la reazione Della partita Eccetera Poi Se c'è sta Tipo finale di Champions La farò Vabbè La reazione Però vabbè Poi se c'è tipo Cioè Se c'è tipo L'Europa League Del Napoli Facciamo giovedì Però raga I video Vi ricordate che Sabato E domenica Che faccio tutti I pronostici Cioè Non faccio tutti i pronostici Reagisco a tutti i risultati Capito raga E Qui da Protaghe per 990 Tutto E Bella raga